allora 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 sembra sembra che vogliano farmi fare gli sfoghi perché poi la gente no mi dice sic ma quanti sfoghi fai quanti ce n'è bisogno esattamente quanti ce n'è bisogno allora primettendo che sono spettinato come pappagone allora nzonzi nzonzi è sparito nzonzi nzonzi è su chi l'ha visto nzonzi zà nzonzi zà dove cazzo sia finito nzonzi nzonzi zà allora uno dice che poi si incazzano io ti ho pagato 30 fottuti milioni 30 fottuti milioni che sommati a quelli di cristante e quelli di pastore sono esattamente quelli che mi servono a me per commissionarmi per andare a uccidere monci ok 30 fottuti milioni e nonostante questo nonostante una stagione di merda la roma chiama nzonzi 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 pure le purcici hanno la tosse nzonzi steven steven pippa fracica nzonzi lo chiama e non gli risponde lo aspetta per le visite mediche e non si presenta per quanto mi riguarda per quanto mi riguarda i 30 milioni di euro ovviamente sono stati spesi ok quindi tu sei un mio giocatore tu da qua ti muovi solamente se mi dando almeno 25 milioni solamente perché se no tu lì muori in panchina cioè non esiste nonostante tu sia scarso come l'acqua in africa perché sei scarso perché sei scarso perché nzonzi è scarso perché un giocatore che viene pagato 30 milioni solo perché è campione del mondo valutato 30 milioni che sa fare solamente i passaggi semplici dialogare con quella a destra e con quella a sinistra che mia nonna dialoga meglio al parchetto sotto casa quando porta a cagare il cane zonzi 30 milioni sei scarso quindi già che sei scarso perché non è che sei stato pagato 30 milioni sei forti sei scarso sei scarso sei scarso tra te e gonalon non c'è differenza tranne il prezzo che ti abbiamo pagato tu devi compensare con la grinta e con la voglia di fare visto che hai la grinta la grinta di un morto di cagarella ok che tu hai la stessa grinta di uno che c'ha una febbre a 40 almeno l'impegno ce lo devi mettere dal momento in cui sparisci per me la porta è quella e vai via solamente se mi danno retta se non resti in panchina raga nzonzi sparito è sparito nzonzi poi dici che uno si inca io non ho ancora parlato di Manolas e Giacomo sia che io non ho ancora parlato di Manolas al Napoli per diavara per diavara cioè ragazzi se l'anno prossimo non arriviamo decimi a Petraghi e a Fonseca tocca vai una statua io fossi Fonseca comincerei a pensare non lo so alle dimissioni per Dio cioè è arrivato ieri Petraghi in un giorno e Giacalinta è per 10 milioni oh 10 milioni oh 10 milioni roba che Petraghi costa 25 10 milioni Giacomo Manolas 20 più diavara 20 più diavara che quest'anno regà io ne voglio parlare a tempo debito ne voglio parlare a tempo debito ma diavara quest'anno quando il Napoli incello da centrocampisti metteva Fabian centrale nonostante giocasse da laterale o da centrarsi perché diavara gli faceva schifo ad Ancelotti non non a che ne so a Mizzio a Mizzio che allena i purcini del Tor Vergata Ancelotti ok quindi qualcosa capirai noi stiamo prendendo 20 milioni per Manolas 20 milioni 20 milioni di più diavara poi poi El Sharawo in Cina per la stessa cifra che serve a me per iscrivermi all'università 20 no 18 milioni ci manca però insomma capite bene che c'è qualcosa che non quadra e ora questa Nzonzi che è sparito perché sparisce anche Nzonzi perché anche Nzonzi si permette di sparire qual è la scusa vediamo qual è qual è che si era scaricato il telefono non c'era caricabatterie si è sbagliato c'è il Samsung e hanno messo il nuovo aggancio Dert-Type Dert-Type Cina lui c'ha quello vecchio e non gli entra e quindi si è scaricato il telefono ha perso l'autobus Nzonzi ha perso la metro qual è il problema ha perso il tour bus con Sespo e Valerio Mazzai che tra l'altro saluto qual è il problema di Nzonzi ora perché non c'è perché non c'è qual è il tuo problema dove sei dove sei dov'è la professionalità 30 milioni ti ho pagato ti ho pagato 30 milioni uno a ogni partita di merda che ha fatto quest'anno un milione a partita di merda io non ce la faccio più essere tifoso della Roma non è affatto faticoso infatti ho perso 20 chili in un mese per Dio non è non è non è non è